e la prima parola che sento di rivolgervi è grazie davvero grazie grazie perché ci siete grazie per quello che fate grazie perché siete stati chiamati avete risposto davvero grazie questa regione ci è molto cara c'è sempre stata molto cara ma c'è stata ancora più cara nell'ultimo periodo perché è quella che per prima ha portato i segni e il peso di questa pandemia in italia abbiamo pensato moltissimo a voi abbiamo pregato per questa regione e abbiamo intuito tutta la fatica che avete fatto che i nostri gruppi che i nostri fratelli hanno fatto che le famiglie dei nostri gruppi hanno fatto quindi per questo intanto grazie e vi porto il grazie non solo mio ma di tutto il comitato nazionale di tutto il consiglio nazionale siate davvero benedetti è una regione benedetta allora vedete questa parola qui abbiamo tanto pregato perché il signore ci desse la parola a fondamento di questa scuola regionale che riparte che fa ripartire il rinnovamento dopo un tempo po difficile dopo un tempo di fatica di prova di lutti di malattie di speranze di gioia con l'effusione dello spirito ripartiamo ma abbiamo messo a fondamento di queste scuole in tutta italia in tutte le regioni questa parola di paolo a timoteo custodisci mediante lo spirito santo che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato e noi per primi ci siamo chiesti questo bene prezioso che ci è stato affidato qual è io vi invito a pensare a caldo subito signore qual è il bene prezioso che mi hai affidato perché abbiamo un bene prezioso enorme e vedremo in quanti modi possiamo vedere questo bene ma se io vi chiedessi subito qual è il bene prezioso che dio ha affidato alla tua vita tutti diremmo i figli la famiglia ma c'è un bene più prezioso che dio ci ha affidato e noi dobbiamo imparare a leggere i segni dei tempi e noi siamo stati chiamati conosciuti da sempre e chiamati da dio perché ci ha messo tra le mani un bene prezioso che ha mille sfaccettature e questo bene prezioso è la nostra fede ma è la spiritualità carismatica non una spiritualità è una fede e basta ma una fede è una spiritualità carismatiche questo è il bene prezioso che ci è messo ci è stato messo tra le mani e poi questo bene prezioso diventa il gruppo diventa la comunità il nostro cenacolo questo bene prezioso diventa ogni fratello e ogni sorella che si avvicina a noi questo bene prezioso diventano i fratelli del pastorale diventano i sacerdoti che ci accompagnano e che accompagniamo questo bene prezioso diventa la chiesa ma questo bene prezioso diventa il mondo tutto il mondo e non vi sembri troppo perché dio ha tanto amato il mondo non appena la chiesa cattolica ma tanto amato il mondo da dare il suo figlio per il mondo e noi ci sottostimiamo e ci sottovalutiamo perché non ci riteniamo degni di essere stati fatti oggetto di un tale privilegio che il padre si sia affacciato dal cielo abbia guardato noi le nostre vite così come sono esattamente come sono e ci abbia messo tra le mani un bene prezioso un bene molto prezioso che ci chiede di custodire e cosa significa custodisci si può custodire qualcosa mettendolo sotto una campana ma così custodiamo le statue che sono fredde inerti ma tutto ciò che è vivo non può essere custodito semplicemente tenendolo da parte ma tutto ciò che è vivo deve essere custodito nutrendolo nutrendolo allora la custodia che ci viene richiesta è una custodia che richiede un nutrimento noi dobbiamo nutrire questo bene prezioso che è la nostra vita ma che sono i nostri fratelli che sono i nostri gruppi che è il rinnovamento che è la vita carismatica riusciamo a nutrire la vita carismatica e cari fratelli qui parlo per me ne faccio esperienza ogni mattina non sempre io riesco a nutrire la mia vita carismatica perché spessissimo mi lascio distrarre dal lavoro dalla famiglia cose buone mica cose peccaminose cose molto buone eppure anche le cose buone riescono a distrarmi da questo nutrimento di cui la mia vita carismatica ha bisogno e se io non nutro la mia vita carismatica la mia spiritualità carismatica mediante lo spirito santo che abita in noi non riuscirò a custodire i beni preziosi che dio ha messo nelle nostre mani il primo bene prezioso per me oggi è questa regione il primo bene prezioso oggi perché ogni giorno c'è un bene prezioso il primo per me oggi siete non solo voi ma tutti quelli che voi rappresentate perché dietro di voi c'è un mondo dietro di voi ci sono gruppi e comunità dietro di voi dentro il vostro cuore con voi qui assenti ma molto presenti ci sono i nostri fratelli le nostre sorelle quelli attuali ma quelli che ci sono stati e quelli che verranno che noi ancora non conosciamo e noi siamo chiamati a custodire tutto questo altissimo compito caspita richiede impegno caspita grande responsabilità e sì eppure dio ci ritiene degni di questo privilegio e allora la prima cosa a cui dobbiamo pensare è a noi e ad essere certi che lo spirito santo abita in noi perché senza questo essere abitati dallo spirito santo sarà molto complicato riuscire a vivere questa parola perché in queste scuole noi non dovremo fare altro che vivere questa parola poi la declineremo in mille modi faremo mille mistagogie avremo l'occasione di parlarne di pregare ma noi dobbiamo incarnare questa parola qui nutrirci di questa parola per incarnarla poi fuori perché è quello che lo spirito ci sta chiedendo è la profezia che lo spirito ci chiede di essere lì dove ci manda allora cominciando dallo spirito che abita in noi abita in noi che bello entrare e sentire che davvero già lo spirito era qui ci aveva preceduto e che ha i sensi spirituali allenati e tutti noi qui abbiamo questi sensi spirituali allenati noi sappiamo riconoscere il passaggio dello spirito santo da piccole cose da quella brezza leggera da quel brivido che ti sorprende da quella parola che ti colpisce da quel sorriso di quel fratello da quell'abbraccio di quell'altro fratello è lo spirito che si muove ma che cosa deve essere stata l'effusione dello spirito la prima effusione la prima pentecoste che cosa deve essere stata ha cambiato il mondo cosa deve essere stato quel tuono la scrittura parla di un tuono il libro degli atti dice un fragore di tuono cosa deve essere stato io non so se grazie non so se l'ho raccontato qui ma lo racconto sempre dovunque vado io lo racconto perché è una cosa che mi ha profondamente segnata la storia di una giovane ragazza inizio anni 70 intorno al 75 76 primi gruppi in italia in campania viene invitata dalla sua insegnante a partecipare ad un incontro di preghiera a quei tempi i gruppi si riunivano in maniera non dico clandestina ma quasi e questo gruppetto si riuniva fatto da persone non giovanissime in una chiesa non più abitata una chiesa consacrata ancora ma dove non veniva più celebrata la messa era una di quelle chiesette abbandonate questo gruppo si riuniva qui e questa ragazza partecipa ma quasi di soppiatto quasi di nascosto a questo incontro di preghiera arriva che l'incontro era già iniziato e rimane in fondo alla porta non ha il coraggio di avvicinarsi e scappa via prima che la preghiera finisca ma il giorno dopo si avvicina all'insegnante che l'ha invitata e chiede professore ma come avete fatto a fare quella scenografia che avete fatto e questa la guarda e dice ma perché che cosa hai visto ma c'erano tutte quelle fiamme sulle vostre teste tutte quelle fiammelle sulle vostre teste ma come avete fatto a farle e gliele ha fatte disegnare per capire com'erano queste fiammelle sulle loro teste ecco quella ragazza oggi è una suora quella ragazza una suora è una clarissa una suora di clausura giuditta si chiama quella ragazza ha avuto il privilegio di vedere e quel vedere non serviva solo a lei serve anche a tutti noi noi non lo vediamo ma ad ogni invocazione dello spirito è quello stesso fuoco che gesù desidera che sia acceso è quello stesso fuoco che ci investe che ci infiamma che ci abita è quello stesso fuoco se riuscissimo a vederlo se davvero riuscissimo a vederlo eppure ci viene chiesto di credere senza vedere ci viene chiesto di affidarci a questo spirito e poi dio ci dà i sensi spirituali per comprenderne la venuta perché ad ogni venuta dello spirito il nostro cuore cambia ad ogni venuta dello spirito ci viene donato qualcosa e noi diventiamo sempre più allenati sempre più capaci di rispondere alle richieste dello spirito perché lo spirito viene come datore di doni ad ogni effusione ad ogni invocazione ad ogni venuta lo spirito non ci lascia come ci ha trovati ma ad ogni effusione ci dona qualcosa e noi siamo chiamati a vivere questa spiritualità carismatica abbiamo bisogno di ripartire dai carismi abbiamo bisogno di ripartire da un'audacia carismatica noi siamo nati così nella chiesa noi siamo carismati carismatici i carismatici fanno paura perché non puoi fermarli e non puoi prevedere e dice sant'agostino che i carismi non si esaminano non si indagano lui usa proprio la parola non si indagano ma si adorano perché è un mistero è un mistero grande è il mistero della salvezza ma a dio è piaciuto chiamare noi in questa in questo tempo in questa fase storica perché la chiesa ma non appena la chiesa il mondo se leggiamo i segni dei tempi ha bisogno di una spiritualità carismatica ha bisogno che dio si renda ancora presente nello spirito attraverso segni attraverso i carismi che sono scomodi e sono molto scomodi eppure dio ha chiamato noi per manifestare la presenza di suo figlio attraverso questa spiritualità carismatica e c'è una parola romani 12 che vi invito a prendere perché in questi giorni sarà fatto oggetto del nostro studio romani 12 i versetti 6 8 abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi che ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che è detta la fede che ha un ministero attenda al ministero chi insegna si dedichi all'insegnamento chi esorta si dedichi all'esortazione chi dona lo faccia con semplicità chi presiede presieda con diligenza chi fa opere di misericordia le compia con gioia e qui l'apostolo fa un elenco così come lo fa nella lettera ai corinzi al capitolo 12 di doni doni diversi secondo la grazia data ciascuno doni diversi ogni comunità ogni gruppo è ricca di questi doni diversi e a noi spetta il discernimento di questi doni perché ogni fratello e ogni sorella che giunge nei nostri gruppi e nelle nostre comunità si senta valorizzato e possa esprimere appieno la sua vocazione possa realizzare la sua vocazione ci sono dei testi che nel tempo abbiamo utilizzato io ve ne cito alcuni scuola di vita carismatica esperienza dei carismi che un antichissimo testo di di circa 20 anni fa scritto da padre giuseppe bentivegna che ora dal cielo ci ascolta dove non soltanto c'è un elenco meraviglioso di carismi ma c'è tutta una parte dedicata ai padri della chiesa e soprattutto catechismo della chiesa cattolica e testi conciliari tutte le costituzioni donmatiche la lumen gentium la christi fidelis laici dove ci sono tutte estrapolate queste parti che ci interessano dove si parla di questa coessenzialità tra chiesa gerarchica e quindi ministero ordinato sacerdozio ordinato e chiesa carismatica che non è da meno non è una chiesa di serie b ma c'è una coessenzialità tra il ministero petrino e il ministero laicale e quindi la vita carismatica ma la domanda che noi ci stiamo facendo è quanto questa pandemia ci ha limitati nel nostro esercizio dei carismi e nella nostra vita carismatica dobbiamo riprendere questa esperienza esperienza che non è formazione intesa in senso teologico o intellettuale esperienza dei carismi noi cari fratelli e care sorelle dobbiamo fare esperienza dei carismi come si fa l'esperienza dei carismi non certo sui libri quelli ci aiutano ci aiutano a comprendere ci aprono il cuore ci aiutano a pregare ma l'esperienza dei carismi si fa pregando non c'è un altro modo l'esperienza si fa pregando e se si è insieme si fa ancor meglio l'esperienza dei carismi si fa esercitando i carismi si sbaglia certo certo che si sbaglia e come si impara sbagliando non c'è un modo diverso noi dobbiamo fare questa esperienza ma i carismi che sono un dono di dio lo sappiamo bene ripeto cose sapute e risapute dio manda i doni a chi vuole come vuole non deve certo chiederci il permesso quando arriva un carisma si scontra e dico si scontra con la nostra umanità e quindi con il nostro essere con la nostra cultura con la nostra preparazione con la nostra capacità con la nostra pigrizia con la nostra superficialità questo carisma che scende dal cielo deve fare i conti con l'uomo e non nasce bello e fatto a meno che non sia uno di quei carismi straordinari per cui sento il fuoco impongo le mani e la persona per cui prego guarisce magari ma non funziona così nelle nostre comunità i carismi si contagiano ma devono essere esercitati e quanto più li esercitiamo tanto più impariamo ad accoglierli e a metterli a servizio perché poi a questo serve un carisma ad edificare la comunità non serve a chi lo riceve per chi lo riceve responsabilità e impegno ma il carisma deve essere messo a servizio della comunità per edificare la comunità e questo carisma non arriva a belle fatto ma ha bisogno di un allenamento e noi pian piano riconosciamo la presenza di questo dono in noi quanto più lo esercitiamo ed è ovvio che all'inizio il carisma è non solo in embrione ma anche come dire sporcato lasciatemi passare questo termine dalla nostra umanità e quindi non è puro ma deve diventare puro il dono di dio deve diventare puro e diventa puro quanto più noi lo esercitiamo anche attraverso i nostri errori all'inizio del nostro cammino all'inizio del rinnovamento eravamo molto audaci eravamo talmente audaci da destare sospetto nella gerarchia ma a noi non importava molto perché non riuscivamo a frenare l'esuberanza perché il nostro amore la nostra lode la nostra gioia spirituale la presenza dello spirito in noi si manifestava così con una gioia irrefrenabile e un entusiasmo anche a volte imbarazzante soprattutto in alcuni contesti ecclesiali poi abbiamo imparato a fare i conti con questa gioia e anche con la necessità di essere accolti a livello ecclesiale vi posso fare una confidenza l'abbiamo fatto troppo abbiamo esagerato siamo diventati un po imborghesiti noi dobbiamo tornare a quella vitalità fratelli e sorelle lo credo fortemente lo penso fortemente lo desidero fortemente lo desidero fortemente per tutto il rinnovamento nello spirito santo desidero quella lodevole pazzia di cui parlano i padri della chiesa lodevole pazzia all'inizio noi siamo stati attraenti perché eravamo strani ma era una gioia contagiosa quella gioia contagiava quella gioia quell'entusiasmo pure nella prova portava gli altri a chiedere ma cosa hanno ma perché sono così gioiosi e quell'amore fraterno traspariva dai nostri abbracci dal nostro modo di accoglierci dai nostri sguardi dai nostri sorrisi dai canti dai balli noi dobbiamo tornare a quei tempi non per nostalgia ma per maturità oggi in un'immagine abbiamo avuto il cesto pieno di frutti maturi adesso noi siamo frutti maturi e l'innovamento è ad un cammino di maturità ma i frutti maturi sono più gustosi di quelli acerbi e noi dobbiamo riprendere tutto ciò che ci ha costituito carismatici e viverlo con questa maturità e donarlo alla chiesa e donarlo al mondo con questa nuova maturità che significa formazione profonda e ne abbiamo fatta formazione per 40 anni senza però trascurare l'esperienza e riappropriandoci di ogni carisma ci siamo resi conto in questo tempo che il papa ci dice nell'evangelii gaudium ciascuno di noi può dire io sono una missione e noi ci siamo detti sì bene noi siamo una missione andiamo dappertutto l'evangelizzazione per il rinnovamento non ha più segreti ma siamo una missione carismatica perché la domanda è solo quella e mi spiego siamo stati con mio marito a casa di una coppia una coppia del rinnovamento nello spirito non una coppia altra una coppia del rinnovamento la figlia aveva un'influenza in tempo di pandemia si sta sempre molto attenti ma era l'influenza e ci sta facevano stare in un'altra stanza ci hanno accolto con molta cortesia ma con molta formalità e noi ci guardavamo e poi abbiamo chiesto finalmente ma scusate ma avete pregato per questa bimba questi genitori si sono guardati hanno detto no abbiamo chiamato il medico che va benissimo ma ma non avete imposto le mani su vostra figlia no e ce lo hanno detto così convinti come se avessimo chiesto siete andati su marte fratelli carismatici non parlo di altri abbiamo chiesto di poter pregare ci hanno accompagnato da questa bambina e tutti e quattro i genitori e noi due abbiamo pregato su questa bambina con l'imposizione delle mani dopo mezz'ora la bambina non aveva più la febbre ma non perché dio ha voluto dimostrare ha voluto riportare nel cuore di quella famiglia l'audacia dei primi tempi quando appena qualcuno di noi aveva anche solo un raffreddore prima di chiamare il medico si pregava prima non lo facciamo più perché non lo facciamo più e anche nei nostri incontri se qualcuno chiede potete pregare su di me c'è tanto timore timore aggravato dalla pandemia timore aggravato dalla paura del contagio questo lo comprendiamo bene ma noi dobbiamo ripartire e dobbiamo ripartire dall'effusione dello spirito e l'effusione dello spirito non avviene se noi non facciamo quel gesto che non ha niente di consacratorio niente ma è un gesto di benedizione un gesto di invocazione è un gesto che il signore ci ha consegnato fin dall'inizio è un gesto che dice affetto è un gesto che dice raccomandazione a dio è un gesto che dice mi prendo cura di te è un gesto che dice io tengo a te tu sei mio fratello e ti presento al signore è un gesto che dice noi siamo così dio ci ha voluti così nella chiesa nessuno è così solo noi siamo così e vi rivelo un'altra cosa nell'ultimo consiglio nazionale il nostro nuovo assistente spirituale nazionale don michele leone ha preso la parola e poi ha cominciato a parlare dalla pienezza del cuore perché la bocca parla dalla pienezza del cuore e a un certo punto ci ha confidato che vive questo nuovo ministero di assistente nazionale nel rinnovamento con timore e tremore timore per il grande impegno per la per la grande responsabilità che dio gli affida e tremore nello stesso tempo perché si sente privilegiato e ha detto alcuni vescovi ai quali sono andato a raccontare che mi hanno benedetto gli hanno fatto delle confidenze e lui diceva uno in particolare mi ha detto don michele nelle tue mani c'è un compito grandissimo e in tutto il rinnovamento nello spirito c'è un compito grandissimo noi vescovi ci attendiamo moltissimo da voi lui ha aggiunto che il vescovo ha detto siete l'ultima spiaggia la chiesa soffre e ha bisogno di voi e ha bisogno però di questo rinnovamento che sia carismatico che sia udace e i vescovi gli hanno confidato abbiamo bisogno che vi prendiate cura dei sacerdoti perché i sacerdoti vivono un momento difficile hanno bisogno di essere accompagnati ma hanno bisogno di essere rinnovati ravvivati allora non solo state gli vicini ma fate seminari di vita nuova a loro fate con loro esperienza dei carismi dimostrate a loro che c'è un popolo carismatico il che significa dio è ancora in mezzo a noi si prende cura di noi e don michele ci diceva noi abbiamo bisogno di rinnovare i nostri gruppi con l'effusione dello spirito perché senza l'effusione dello spirito noi non riusciremo a custodire questo bene prezioso che ci è stato dato e noi dobbiamo custodirlo rinnovandolo vivificandolo con audacia senza vergogna senza rispetti umani magari ci dicessero tutti ma siete pazzi non ce lo dicono più non ce lo dicono ci dicono che bei canti che avete non è la stessa cosa non è la stessa cosa chi danza più solo luigi ancora è l'unico che danza dovunque e comunque e apre il cuore e vederlo danzare ti fa scendere la consolazione e la visione del cielo perché in cielo si danza in cielo si danza e allora miei cari fratelli noi dobbiamo ripartire ho preso anche più tempo di quello che avrei dovuto dobbiamo ripartire da questo dono di dio il carisma dallo spirito di dio che è il datore di tutti i doni e san paolo dice desiderate aspirate ai carismi più grandi bisogna chiedergli carismi bisogna desiderarli bisogna aspirare ai carismi più grandi e poi lui ci indica la strada la comunione e l'imposizione delle mani e la vita nuova nello spirito con il seminario di vita nuova a tutti il papa sono anni che ci dice a tutti anche per strada ha aggiunto anche per strada stiamo immaginando un seminario di vita nuova ecumenico questa è la regione più attrezzata da questo punto di vista da fare insieme a fratelli cristiani di altre confessioni religiose proprio per rispondere all'appello del papa e per dar vita a questo nuovo tempo far presente che c'è ancora un popolo carismatico io lascerei adesso la parola a voi per tutte le domande che vorrete fare siamo qui per rispondere alle vostre domande ci diamo un tempo di condivisione e poi invece faremo un'esperienza spirituale proprio sulla preghiera fatta con l'imposizione delle mani